E' lui, che ha una voce meravigliosa. E allora vorremmo veramente fargli sentire l'applauso caloroso del pubblico di Roma e sentire da ognuno di loro chi sono e da di loro. I artisti del festival, che hanno dei loro spettacoli e saranno, come magari molti di voi hanno già visto, in programmazione nel festival. Un gran temporale avvolgeva quella capanna, le nuvole nere si agitavano fuori e il vento si infiltrava tra le canne di bambini. E' un'altra volta, in un'altra volta, un'altra volta, vive una widow woman. she had no husband her husband had died a long time ago but when he was alive he loved her so how does many does the man have 67 yeah that's right I want them to joy have joy during the mating well then the woman oh 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 oh